SIN2 da 15 anni sul mercato è già una delle realtà di tutto rispetto a livello mondiale. SIN2 produce soluzioni visive per ogni esigenza, dalle proiezioni agli schermi giganti fino agli impianti audio dalla qualità eccelsa. Un prodotto basato sulla continua innovazione tecnologica per far sì che le riproduzioni video siano sempre più realistiche ed emozionanti. Punta di diamante della gamma è il display HDR, il primo ad aver utilizzato la tecnologia Dolby Vision, famosa per l'eccellenza dell'immagine e l'altissima qualità della visione. Con un lavoro pieno di passione ed eccellenza, oggi SIN2 distribuisce i propri prodotti in 65 paesi nel mondo. Shanghai sarà l'occasione per consolidare il mercato cinema e home theater, per far conoscere i nuovi prodotti e mostrare al grande pubblico le moderne potenzialità in merito alla fruizione degli ambienti, pareti come quadri, spazi che comunicano attraverso immagini sempre più nitide e definite, luoghi che si trasformano e invitano ad essere vissuti. Grazie per la visione!